Si sta per terminare la partita Juve-Fiorentina, cioè no, beh io stasera mi faccio parato Io stasera mi faccio parato, dopo la sconfitta del Lecce contro la Spal per 1-0 Già quella non mi è scesa, ma no, non è che non mi scende la sconfitta della Juve Perché alla fine della Juve non me ne frega tanto Però ragazzi, andare a perdere 3-0 in casa contro la Fiorentina, quasi ultima Ma mi rendete conto? Ci mancano due minuti e la Juve sta sotto di tre gol Con un'espulsione, con un uomo in meno Cioè ragazzi, ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto ragazzi? Allora, andiamo per gradi, andiamo per gradi Allora, la Juve è partita proprio male Con appunto l'espulsione al 14-13 di Juan Quadrado Quindi ex giocatore della Viola E già lì Pirlo si è arrabbiato, naturalmente Cioè, nei primi minuti già trovarti un uomo in meno e vabbè Al ventesimo va a cambiare Ramsey Perché comunque doveva cambiare, no ragazzi? Doveva cambiare per mettere un uomo più in difesa E appunto ho cambiato Ramsey con Danilo E vabbè Alla fine del primo tempo mi va a cambiare Morata E sono appunto incavolato per questo Perché mi ha cambiato Morata Mi ha cambiato Morata che ce l'ha fatta calcio Ora mi ha preso 5 e mezzo Però ora sta prendendo 5 e mezzo Ragazzi, partita finita di Morata E vabbè Allora E mi va a mettere Bernardeschi Bernardeschi, non so Che scalda bene bene la panchina Proprio con la Fiorentina Proprio nella sua ex squadra Cioè, tu Pirlo Ti credi che Che tutti gli ex ti segnano? Ma dove ti devono segnare tutti gli ex? Che ti ha segnato l'ex Casares? Io stasera mi faccio pelato Ho segnato Casares ragazzi Stasera piove Stasera nevica Cioè Casares ha segnato ragazzi Casares Ex della Juve Ha segnato Casares Poi ha segnato Vlaovic E autogol Alessandro In ordine ragazzi Gol Vlaovic E autogol Alessandro Gol Casares Io ragazzi stasera vado a dormire Senza capelli Cioè Vabbè ragazzi Io stasera mi faccio la pelata Sono ironico Però ragazzi Cioè, andare a perdere 3-0 contro la Fiorentina Clamoroso veramente Ragazzi Clamoroso Clamoroso Cioè La Fiorentina sta quasi ultima in classifica Cioè Prandelli stasera ha fatto un super colpaccio Ha fatto un super colpaccio Prandelli A Torino Mamma mia Pirlo mi va a mettere anche Chiesa Che ex della Fiorentina Magari Eh Gol dell'ex Dai sì Tutti i gol dell'ex ormai Mamma mia ragazzi Mamma mia Stasera veramente Sono un po' incavolato per il fantacalcio Mi ho fatto arrabbiare che ha cambiato subito Morata Ma falli fare almeno 10 minuti altri 20 minuti altri Poi cambialo No vabbè raga Sto senza parola Bella ci vediamo alla prossima Niente Prandelli stasera Prandelli stasera